Tutti per uno, il primo reality calcistico sull'aderenza terapeutica nelle malattie cardiometaboliche è un'iniziativa di awareness promossa dal gruppo Servia in Italia e realizzata in collaborazione con Conacuore, Fondazione Italiana per il Cuore e la Nazionale Italiana Gezzisti, con una partecipazione straordinaria di Carolina Morace, campionessa di calcio e già allenatrice della Nazionale Calcistica Italiana Femminile. La campagna si sviluppa sul parallelismo tra gioco di squadra nell'aderenza terapeutica e nel calcio. Infatti la corretta aderenza alla cura nelle malattie croniche e cardiometaboliche necessita di un lavoro di gruppo dove, affinché le cure abbiano successo, è necessario l'impegno di tutti, pazienti, caregiver, operatori sanitari, aziende farmaceutiche e istituzioni. Il reality in sei puntate visibile è sul sito www.alcuoredelladerenza.it e a parlare con noi è il dottor Aiello, protagonista della seconda puntata dal titolo Comunicazione efficace. Benvenuto dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie della presenza. Dottor Aiello, lei è il protagonista dell'episodio Comunicazione efficace. Ecco, per cui sono contenta di lanciare con lei questo reality per Pienetà Salute Tg. Comunicazione efficace, l'allenatore impartisce indicazioni ai componenti della squadra di calcio, sprona i componenti della squadra di calcio e è un parallelo che si può fare nell'aderenza terapeutica, nel rapporto con il proprio medico. Sì, sì, assolutamente. Il problema molto spesso è che noi utilizziamo dei termini e diciamo abbiamo delle aspettative nei confronti del paziente, ma spesso non ci facciamo capire perché facciamo parte alla fine di due mondi differenti e parliamo due linguaggi differenti. Quindi l'aderenza terapeutica si può raggiungere mediante l'uso di approcci farmacologici molto semplici, quindi adesso va per la maggiore l'uso delle associazioni, delle polipillole, ma dall'altra parte, oltre all'approccio farmacologico che noi possiamo fornire, dobbiamo fornire un sistema di comunicazione, un linguaggio adeguato alla persona che ci sta davanti. Quindi noi dobbiamo toglierci un pochino le vesti del medico, le vesti del professore in cattedra e cercare di scendere e prendere per mano il paziente con le sue aspettative, quindi spiegare con termini che lui possa capire l'importanza di fare la terapia, quindi dell'aderenza, ma anche della persistenza, ovvero di farla per un tempo prolungato e per fare questo dobbiamo usare dei termini che lui possa capire, ma anche dei paragoni che lui possa capire, così come nell'ambito calcistico, perché io per esempio sono assolutamente molto poco bravo nello sport, io non sapevo cosa era il fuorigioco, invece mia moglie che è una nota tifosa me l'ha spiegata in maniera molto semplice, è come quando vai al supermercato, prendi una cosa, passi la cassa e non l'hai pagata, ti richiamano perché devi tornare indietro che sei andato troppo oltre, e io li ho capito tutto, e la stessa cosa si può fare con i pazienti, senza stargli a spiegare termini molto complicati, bisogna andare insomma a accompagnarlo con quello che lui sa parlare, anche perché spesso il paziente ha paura di dire che non ha capito, quindi bisogna sempre accertarsi che gli abbia capito, e se vuoi questa è una parte fondamentale, anche perché adesso ormai le industrie ci hanno aiutato tantissimo con prodotti sempre più efficaci e sempre più facili da prendere, adesso tocca a noi medici portare questo tipo di approccio col paziente. E quindi l'aderenza terapeutica è proprio un gioco di squadra. Esatto. Allora, dottore, lei lavora in un ospedale molto grande di eccellenza nella capitale, il San Filippo Neri. Qual è, diciamo, l'identikit di un suo paziente che è un po' così carente nell'aderenza terapeutica? Quali sono le scuse che portano? Io premetto che ho la fortuna di lavorare in un servizio di cardiologia con un personale di altissimo livello, che sono tutte le infermiere che lavorano con me, quindi il lavoro è di squadra, perché chiaramente io posso fare il centro avanti, però loro sono la squadra che mi supportano, mi sostengono e che aiutano il paziente anche a capire, perché quando il paziente entra e viene preparato per la visita, il primo impatto che ha con l'infermiera, che mentre gli fa l'elettrocardiogramma comincia a parlarci, comincia a capire che tipo di paziente ha davanti, comincia a vedere il tipo di paziente, a interrogarlo anche sulla terapia che fa e sull'efficacia che lui pensa che questa terapia possa avere. Normalmente i pazienti che abbiamo adesso sono pazienti abbastanza anziani, ma questo è dovuto al miglioramento delle condizioni di vita, al miglioramento delle terapie che ci portano ad avere una popolazione sempre più anziana e fragile. Quello che vediamo è che spesso e volentieri il paziente, diversamente anche da una ventina di anni fa quando io ho cominciato, è un paziente che nella maggior parte dei casi viene da solo, non accompagnato, quindi abbiamo pazienti molto anziani senza il caregiver, ovvero colui che si prende cura di loro, che spesso e volentieri, specialmente il paziente maschio, demanda tutto alla moglie, quindi il paziente entra ma è la moglie che sa la terapia ed è la moglie che sa tutto, quindi bisogna fare entrare la moglie. Diciamo noi siamo in una zona diciamo altamente volata di una popolazione insomma lavoratrice, sono tutte persone che hanno lavorato, quindi sono persone mediamente scolarizzate e hanno fatto anche lavori manuali gravosi e si portano le stimmate di questi lavori, quindi sono persone che magari sono bronchitiche perché hanno lavorato nell'industria, la maggior parte hanno fumato, sono obesi e sono quasi tutti ipertesi, quindi è lo spaccato di una popolazione che si sta creando, cioè il paziente sempre più anziano con molte comorbidità, che possono essere diabete, ipertensione e spesso e volentieri non hanno contezza della loro situazione, perché a parte l'ipertensione e il diabete, per esempio già sul fatto del sovrappeso, loro tendono a darsi molte giustificazioni e soprattutto una volta il sovrappeso non era visto come una patologia, ma anzi era visto come un indice di floridità, quindi sono persone che vanno accompagnate anche nella consapevolezza dei loro problemi e fornire terapie efficaci che loro possano vedere che funzionano, perché la terapia per l'ipertensione il paziente si prende la pressione buona, quindi il paziente aumenta la fiducia nei tuoi confronti, crede in quello che tu gli hai detto e magari è disposto ad affrontare anche il problema dell'obesità, che non è poco al giorno d'oggi, perché poi insieme al problema dell'obesità noi abbiamo il problema della bronchite cronicostruttiva, che migliorando il peso assolutamente migliora anch'essa delle apne notturne, del diabete, quindi diciamo che è tutto un trend e la famosa alleanza terapeutica che noi cerchiamo si può basare su questo rapporto di fiducia, fiduciario fra medico e paziente, in cui il paziente e il medico è disposto ad ascoltare le aspettative del paziente e a fornire delle cure efficaci e tramite queste cure il paziente ha fiducia nel medico ed è disposto ad affrontare anche altri piani che magari durante la prima visita non hanno affrontato, come l'alimentazione, l'attività fisica e lo smettere di fumare, che specialmente nel paziente anziano, noi abbiamo pazienti che la maggior parte sono ultraottantenni, sono temi che adesso è normale, i giovani pazienti sanno tutti che non devono fumare, devono fare attività fisica, devono mangiare sano, come va di moda anche nella palestra dire, però i pazienti di una volta che magari hanno fatto solo le scuole dell'obbligo e hanno fatto lavori un pochino meno di ufficio, ma più manuali, non sono portati a pensare, a credere, quindi noi dobbiamo un pochino immedesimarci in chi abbiamo davanti. E quindi dottore lei ha proprio riportato tutti i capisaldi su cui questo bel reality calcistico si fonda e quindi aderenza terapeutica, persistenza, comunicazione efficace, fiducia nel proprio medico e quindi proprio è un gioco di squadra. Esatto, un gioco di squadra e anche con del personale perché il medico può essere il centravanti, però il centravanti non va davanti senza nessuno se non ha i colleghi che gli passano la palla e io appunto ho del personale non medico infermeristico che fa un lavoro molto importante con il paziente, assolutamente.